Signori, buon pomeriggio. Allora, non perdetevi le belle foto che stiamo facendo a mia nura Roberta. Siamo io, Enzo, mia nura, mio figlio, in un bellissimo centro fotografico. Come si chiama Enzo? Facciamo vedere tutto, non vedetevi niente. Mio nipote nella pancia della mamma, mia nura Roberta, ci dobbiamo tenere in ricordo. Va bene, stiamo facendo tutto questo. Enzo ha regalato tutto questo a mia nura Roberta. Va bene, aspettatemo piano piano, faccio vedere di tutte e di più le cose belle. Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo sale un sarcobaleno. Io ti chiedo ancora la tua bocca, ancora le tue mani, ancora sul mio palco. E che stia situazione? Mi ha già risposto, si può cambiare nella vita. C'aveva uscito tutto qua. Buongiorno. 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 Nenna, ragia cinque euro. Vieni a mamma, vieni. Non voglio niente, però, mettetele dentro la sacca. No, non voglio niente. Vai, Arizzi. Vai. E il mio video ti preoccupa? Non ti preoccupa, vai. Sono qui a coccoronare. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Vai, Arizzi, vai. Che Dio ti benedica. Arrivederci, eh. C'è. Purtroppo. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te per ricordarti che il mio amore è importante e non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con...